Comunicazione urgente 59372 al Parco Nazionale Australiano. Per tutti i canguri! E qui cos'è successo? Sono scappati, signore. E guardi cos'hanno fatto a Pretty Boy. Accipicchia! Che cosa facciamo, papà? Te lo dico subito cosa farò, figliolo. Adesso andrò là fuori e chiamerò la disinfestazione. La disinfestazione! Non gli darai la caccia di persona, papà! Sì, sai, come quando hai dato la caccia a quei lupi che avevano mangiato gli orfani. Giusto, sì, sì, ma... Beh, avevano mangiato gli orfani, quindi... Hai detto che quel serpente era la creatura più letale del mondo. Sono una minaccia per la società, papà. E tu sei l'unico che li può fermare. Ti prego! Tu sei l'unico che ha fatto, papà. Oggi, è una minaccia per la società, papà. Io vedi l'unico che dovrebbe essere l'unico chebaren a chiama oltre. E lui, è la mia vita!